Tex Wheeler. Immaginate un uomo di giustizia, una figura del selvaggio West, un difensore dei diritti dei nativi americani. Questo è Tex Wheeler, il protagonista di una serie di fumetti italiani che ha catturato i cuori di tutto il mondo. Creato nel 1948 da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galeppini. Continua ad ispirare e intrattenere dal Brasile alla Finlandia, dalla Norvegia alla Grecia, dalla Turchia alla Croazia e oltre ogni confine. Le sue storie non sono solo inchiostro su carta ma si sono evolute in film, giochi per computer e numerosi adattamenti. Tex Wheeler è più di un personaggio dei fumetti, è un simbolo di giustizia e un faro di speranza. Entra nel suo mondo e diventa un suo parda anche tu. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.